Grazie a tutti. Grazie a voi per l'ospitalità, ben trovati di nuovo. Allora, oggi presentiamo un tuo libro edito dalla San Paolo che si intitola Preti, tutti i colori del clero e non c'è il grigio. Vorrei ricordare che Don Diego è parroco dell'Arcidiocesi di Torino e parroco di quattro paesi, e quindi comunque sta bene quello di cui stiamo parlando, anzi addirittura sei felice di essere sacerdote parroco e sei convinto che un prete per essere un buon prete non debba assomigliare troppo a un prete. Allora, la prima curiosità, è un libro davvero molto simpatico, però riesci anche ad essere, come dire, anche pungente, ma sempre con grande umorismo, con grande diplomazia. E perché hai scelto di scrivere questo libro? Cioè perché hai scelto di raccontare, ecco, 50 ritratti di preti di oggi, 50 figure di preti che hanno incrociato anche la tua vita? Anzitutto perché quando la gente fa la domanda come mai ti sei fatto prete, per me la risposta è perché ne ho conosciuti tanti felici e sono quelli che ho messo in quel libro. Cioè il desiderio di rispondere positivamente alla chiamata del Signore viene fuori perché ho avuto la fortuna e la grazia di incontrare dei sacerdoti che veramente mi hanno fatto dire questa non è una vita sprecata, ma quella del Ministero è una delle più belle che l'uomo può ricevere in dono dalla grazia di Dio di poter vivere. E quindi il raccontare, la loro felicità, il loro entusiasmo nel Ministero, la loro diversità, che indica anche la libertà con cui il Signore ci lascia vivere, l'avventura cristiana anche da sacerdoti, è alla base della risposta che poi ho sentito di dare io al Signore quando è arrivato il momento di rispondere alla vocazione. Allora Don Diego, qual è stato il primo prete che tu hai conosciuto e al quale hai dedicato anche due pagine di questo libro? Ricordiamo che sono circa 50 ritratti e quindi un centinaio di pagine, di conseguenza per ciascuno fai un ritratto di due paginette. Ecco, raccontaci il primo prete che hai conosciuto. Il primo prete è stato Don Luciano, un salesiano di San Benigno Canavese. C'è stato un incontro abbastanza forte nei suoi confronti perché io sono entrato in cortile e entrando in cortile mi è arrivata una sua pallonata in faccia. Quindi il primo appuntamento, il primo incontro con lui è stato quello di essere steso per terra da questo sacerdote che poi è arrivato e mi ha anche sgridato perché non ero stato attento durante la partita. E invece il tuo primo parroco? Il mio primo parroco invece si tratta di un attuale vescovo di Pinerolo che è una persona di una bontà, direi delicatezza incredibile, Monsignor De Bernardi che mi ha insegnato il piacere di stare con la gente. Lui l'ha chiamato l'abate all'interno della parrocchia e devo dire che ha sempre dimostrato quello che Papa Francesco chiama l'odore delle pecore. Cioè passare il tempo con le persone era la qualità fondamentale del suo ministero cosa che poi ha mantenuto anche da vescovo. Don Diego mi ha colpito il primo capitoletto intitolato Senza lancette perché è proprio vero quello che tu scrivi. Purtroppo quello che lamentiamo noi parrocchiani molto esigenti è il tempo al nostro parroco. E tu scrivi una cosa davvero brutta quando apri la tua anima a qualcuno e vedere la persona a cui ne stai donando un pezzo con fiducia e fatica sta invece guardando di sfuggita ma con precisa regolarità un punto dietro le tue spalle. Sai che lì c'è un orologio quindi sta contando, sta soppesando come scrivi tu il tempo che ti concede. E poi dici ho conosciuto Don senza lancette. Bellissima questa definizione. Quindi hai conosciuto qualcuno che non stava lì a contare il tempo che ti dedicava. L'ho conosciuto e ci ho vissuto insieme per 12 anni perché è stato il primo parroco con cui invece ho prestato servizio nel Ministero. Sono stato con lui suo viceparroco per 12 anni, lui si chiama Don Carlo ed è una persona che veramente si svegliava al mattino prestissimo e andava a dormire alla sera tardissimo con una sola preoccupazione quella di essere a disposizione dei fedeli. Io non l'ho mai visto in presa dall'ansia del troppo Ministero. Quando era con una persona dedicava la persona, glielo ho visto fare per 12 anni insomma quindi credo che sia proprio un campione affidabile tutto il tempo, tutta l'attenzione che era necessaria. Dovete assolverci voi cari fedeli quando vedete che noi non siamo così all'altezza dell'attenzione che invece meritate. È obbligatorio che sappiamo mettere da parte il resto per dedicarci alla cura d'anime e quindi nella confessione, nel colloquio spirituale e in qualunque incontro facciamo siate voi i protagonisti di quello che è la nostra vita in quel momento. E poi hai incontrato anche Don Schematico, il re degli esempi con i quali concretizza le sue lezioni attingendo all'esperienza diretta delle decine di coppie che ha davvero ben preparato per salire con fede all'altare. Con tanto di lezioni di cucina tenute nel centro che per questo ha costruito. Anche questa è un'altra bellissima figura. Questa è una figura che è conosciuta molto bene nella chiesa italiana. è un dominicano che ha realizzato veramente delle opere di grande interesse nei confronti dei fidanzati che andavano a sposarsi. Di lui mi è sempre piaciuto, era uno dei pochi professori del seminario che veramente ascoltavo con passione e interesse. Mi è sempre piaciuto il suo essere estremamente chiaro e semplice in quelle che erano le sue indicazioni. Una lezione di dieci minuti con lui equivaleva a aver letto otto libri da parte di altri perché con lo stile di Gesù, quello delle parabole, chiaro ed essenziale, sapeva arrivare dappertutto. Poi anche questo mi ha colpito, il Da Vinci della Chiesa. In un incontro pubblico l'ho definito una leggenda della nostra diocesi. Parliamo sempre appunto dell'Arcidiocesi di Torino. Ci vuoi parlare di quest'altro sacerdote? Perché il Da Vinci della Chiesa? Perché è un genio. Lui si inventa qualunque cosa per poter arrivare al cuore dei giovani soprattutto. Si è preso il brevetto di pilota per portarli in volo, ha inventato scuole professionali, ha inventato la radio in tempi in cui, parlo degli anni 70-75, era uno degli strumenti particolari, più importanti di diffusione del Vangelo. È una persona che non ho mai visto ferma e che continuamente ha saputo usare tutti gli strumenti, ultimo non il web, per arrivare al cuore dei ragazzi. E con risultati direi anche veramente importanti, perché quando organizza campi estivi riesce a portare 200-300 giovani ancora oggi. Quando si dice che la pastorale giovanile è in crisi, io dico non è vero, bisogna saperla fare bene. E lui la sa fare molto bene. E quindi tutta la sua creatività paga bene anche nel Ministero. Mi colpisce molto, per ogni sacerdote che tu racconti, del quale fai il ritratto, ci sono delle caratteristiche che messe insieme andrebbero in un certo senso a creare un sacerdote, un parroco ideale. Magari in una sola persona potessero essere riassunti tutte queste caratteristiche positive che tu racconti, ma non è così, siamo uomini, abbiamo i nostri limiti. Però secondo te, adesso, anche grazie all'esperienza che hai fatto di incontrare tanti sacerdoti nella tua carriera di parroco, Don Diego, quali sono le caratteristiche che il parroco ideale, ecco dai, chiamiamolo così, dovrebbe avere oggi? Beh, credo che Papa Francesco ci dia già la risposta guardando lui come parroco del mondo. Allora, semplice? Perché la gente stufa di prediche, di omelie noiose, intellettualistiche, che sanno solo di aria fritta? Certo. Simpatico, per quanto umanamente gli sia possibile, perché, insomma, fa anche piacere vedere una persona col sorriso, con la gioia negli occhi della fede e che sappia trasmettere un po' anche la semplicità e la bellezza della vita. Con voglia di fare ministero, per cui quando dici che sei in ufficio, non dici che sei professionale, e ci devi essere con voglia, perché la gente ha bisogno di te e ha bisogno non tanto dei tuoi consigli professionali da esperto dello spirito, ma ha bisogno più che altro, certe volte, di incontrare un uomo che sappia condividere le fatiche che in quel momento quell'anima sta provando. E poi, perché no? Ma anche un pizzico di pazzia, di creatività, sicuramente ci aiuta. E' tanto ottimismo, perché in questo momento, accidenti, la gente ha bisogno di sentire il profumo della risurrezione. E per quanto le cose possano non essere splendide di questi tempi, il cristiano sa che fonda la sua vita sulla bellezza della persona di Gesù. Insomma, questo deve vergere, se no non ci siamo. E anche tanta, tanta pazienza, così come parli nel capitolo 17, l'incarnazione di Santa Pazienza. Cioè, hai conosciuto un parroco, un sacerdote con una pazienza infinita? E' un caro amico, che tra l'altro lavora proprio vicino a me, e devo dire che è una persona che invidio, perché riesce a mantenere una calma nelle situazioni anche più disperate, e anche davanti a qualcuno che può essere un po' molesto, perché capita poi di tutto nella vita parrocchiale. E devo ammettere che, veramente, in lui vedo questa serenità, questo suo approcciarsi alla gente, che è frutto di una grande pace interiore, e anche di una scaltrezza, perché poi ti sa mettere in riga quando è il momento giusto, ma senza perdere la gioia che porta dentro. Ecco, questo secondo me è una qualità da invidiare positivamente, cercare di assumere. Racconti anche di un altro sacerdote, un uomo di Curia, e tu scrivi, quando il Duomo di Torino andò a fuoco, racconti questo episodio, tutti erano impegnati ad affrontare le fiamme per portare via la Sacra Sindone laggiù conservata, lui si infilò in chiesa e ne uscì con le ostie sante che erano rimaste nel tabernacolo. E lo definisci la nostra enciclopedia vivente, quando avete bisogno di qualcosa, di sapere qualcosa. E' il nostro cancelliere di Curia, ed è la persona a cui tutte le volte che un prete ha un problema, burocratico, amministrativo, è telefona. Sono quegli incarichi antipatici, perché ti danno solo problemi, certe volte sono anche scomodi, perché devi far rispettare quelle che sono leggi della Chiesa, e ti aspetti che appunto meno l'istituzione curiale in questo si muova in quel senso, e quindi difficilmente poi sono magari incarichi da cui ricevi il grazie, e che invece richiedono una grande professionalità, una grande discrezione, e sono tutte caratteristiche che questi sacerdoti si trovano. Si trovano perché c'è proprio l'amore per Gesù e per la Chiesa, come è l'episodio dell'incendio al Duomo, dove lui è andato a cercare l'essenziale. Esatto. Così come un altro sacerdote che insegnava Sacra Scrittura, le sue lezioni erano imperdibili, disse Non mi interessa che facciate bella figura, ma che siate innamorati del Vangelo. Questa frase ti disse, immagino che questa frase poi ti abbia davvero accompagnato e sia rimasta impressa. Sì, un altro sacerdote domenicano, e anche questo mi impressionava per la sua chiarezza nell'insegnamento e nella sua passione per le Sacre Scritture, diceva attenzione che la predica non è il vostro show. Non dovete citare, dimostrare che avete letto, che avete studiato tanto. Quello che deve uscire, e che chiamate quella pagina di Vangelo che state raccontando, è che quando i fedeli usciranno da quella messa, gli rimarrà qualcosa nel cuore, e non soltanto il pensiero che la messa è finita, e tutti dicono per fortuna. Hai incontrato anche sacerdoti che hanno scelto di fare una carriera al contrario? Quindi di non fare carriera? Qui in Torino abbiamo un esempio straordinario nel nostro vescovo ausiliare, che quando è arrivato a un'età di una certa importanza, al posto di ricevere una diocesi sua e di continuare comunque da vescovo la sua vocazione sacerdotale, ha chiesto di poter tornare in parrocchia. In prima fila fare il parroco, che tra l'altro è una cosa che gli riesce molto bene, per me è stato un esempio importante di umiltà e di attenzione anche per noi, perché è rimasto a nostra disposizione, perché comunque è ancora vescovo, però indossa i gradi del parroco, cioè un po' come quegli eroi nei film dove il generale si mette i gradi di soldato e va a combattere in trincea. Sono quegli esempi che sicuramente toccherò il cuore. E poi anche hai incontrato, incrociato nel cammino della tua vita, il re della risata che proviene dal cuore. Ci sono anche parroci che sanno ridere. Ho un caro amico che ha una risata, lui la usa a livello terapeutico, perché quando c'è qualche problema comincia a ridere e tutti dopo un po' ridono, perché è proprio contagioso. È un'altra qualità che invidio volentieri. È vero. Appunto bisogna prendersi anche non troppo sul serio. E quindi ci sono i problemi veri della vita, ci sono quelli importanti. Questi vanno affrontati con tutta la fede, l'amore e la pazienza possibile. E poi ci sono anche tante stupidaggini di cui ci avveneniamo spesso la vita, cui magari si può arrivare a dare soluzioni più semplici, come questo mio amico sa fare, strappando una risata a tutti, dicendo che forse non è il caso che ce la prendiamo così tanto. E poi ancora, mi piace perché davvero questo è un libro che dovrebbero leggere tutti i parrocchiani, dovrebbero leggere tutti coloro i quali magari hanno davvero come miglior amico un sacerdote o anche un parroco. Il parroco è il prete Giramondo. Che cosa ci vuoi raccontare di questa figura? Lui vive tutta la sua vita con i migranti e quindi conosce molto bene le situazioni che in questo momento si stanno affacciando sul territorio nazionale, nelle nostre case, nelle nostre comunità. È innamorato di queste culture che ha incontrato e penso abbia veramente toccato tutti gli angoli del mondo. Io mi ricordo, sono entrato una volta in casa sua e in quattro pareti c'era tutto il possibile contenibile delle culture umane. Ogni metro era un pezzo di Asia, un pezzo di Africa, un pezzo di... Ed è una persona di una grandissima apertura mentale proprio perché ha visto, al di là del nostro provincialismo, dei nostri schemi preconcetti, che cos'è l'avventura dell'umanità adesso. E questo lo fa diventare un ottimo maestro anche dello spirito perché prende le cose con il giusto distacco. Quindi, se ho ben capito, non ha girato il mondo, ma è il mondo che in un certo senso si è riversato vicino a lui. No, 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 lui ha proprio la passione anche dei viaggi. Anche dei viaggi. No, sono viaggi espressamente culturali, cioè non di turismo fino a se stesso, cioè non andrebbe mai a Formentera, ecco. Per intenderci. Esatto, no, se va, va nella Cina è quella più problematica per conoscere la Chiesa, per conoscere i problemi che ci sono. Se c'è un paese dove c'è stata una tensione, un conflitto, appena può lo va a visitare. Ha proprio piacere di capire la storia umana per quella che è e non per gli schemi forse un po' troppo riduttivi che ci diamo noi quando facciamo i commenti da bar. E poi un'altra figura della quale però, Don Diego, correggimi se sbaglio, non sempre si parla, facciamo fatica anche solo forse a citarla, a menzionarla, a ricordare l'importanza di questa figura. Sto parlando dei sacerdoti esorcisti, ce ne sono sicuramente pochi, però sono di un'importanza fondamentale. Io li ho conosciuti nella vita diversi e devo dire tutti molto equilibrati. Quindi persone che sapevano distinguere il male psichico da quello che invece richiedeva il vero intervento di eliminazione della possessione. Persone che sapevano rimandare a una grande vita spirituale, sapevano far mettere la preghiera serena, semplice, al primo posto. Soprattutto persone che non parlavano sempre del diavolo, ma proprio perché ne avevano a che fare, lo conoscevano bene, invitavano molto a guardare l'amore di Dio. Questa è una cosa che io penso nei confronti di Padre Pio sia così fondamentale. Cioè, pur avendo visto il nemico, non è lui che focalizza la tua attenzione, ma la tua attenzione rimane centrata sul cuore di Gesù. Voglio concludere, o meglio, concludi tu con la tua figura. So che è difficile, insomma, scegliere tra le 50 e i 50 ritratti di preti di oggi che tu hai fatto. Ma qual è il tuo preferito? Magari quale ti sei divertito di più a ricordare, a scrivere, a tratteggiare? Ma c'è stato un episodio bello perché ho raccontato di un sacerdote che amavo vedere quando celebrava la messa, perché ci metteva veramente tutta la passione, ci metteva tutto l'impegno, tutta la preparazione possibile. E mi ha insegnato tanto, proprio per come avvicinarmi all'altare. Mi è piaciuto come esempio perché ha compiuto 100 anni ed è stata una grande gioia quando ho potuto leggere quella pagina che era dedicata a lui e ritrovarsi in quelle righe. A lui il grazie per 100 anni, sono oltre 70 i fischi di ministero celebrate, quindi un sacco di messe dove lui ha messo tutto il suo cuore per la Chiesa, per Gesù e per le anime. Don Diego, io vorrei ricordare ancora ai nostri amici il titolo del tuo libro edito dalla San Paolo, Preti, tutti i colori del clero e non c'è il grigio. Il libro è appunto a firma di Don Diego Goso. Però, come ti stavo dicendo prima, a microfoni spenti, facendo un salto nella libreria dei frati Cappuccini a San Giovanni Rotondo, ho scoperto che ha scritto altri due libri, uno dedicato agli adolescenti, dedicato soprattutto ai genitori, come vivere con un adolescente in casa e non impazzire, e poi un altro libro dedicato al Giubileo della Misericordia. Proprio ti chiedo un minuto a testa per presentarci questi due libri che tu hai scritto. Sono rivestiti da un parroco per i suoi parrocchiani. Quello sul Giubileo è scritto perché è nostro dovere insegnare ai nostri parrocchiani con semplicità a vivere questo anno straordinario che il Papa ha indetto. Il secondo, invece, è quello per gli adolescenti, come vivere con un adolescente in casa. I genitori lo sanno. E quando condividi la loro avventura educativa, quando condividi la passione per i ragazzi, hai voglia di far capire che in questa, che è proprio una guerra, certe volte, che scoppia tra le generazioni, tu sei dalla loro parte per il bene dei loro figli. Quindi, quel bambino affettuoso, quel bambino che è cresciuto negli anni con te, cercando cocco, ad un certo punto scompare, viene fuori l'adolescente che è questo arrabbiato, che pensa di aver capito già tutto, che dice che il mondo non sa niente e che per un po' di anni tiene banco in casa. Quindi bisogna accettare anche questa presenza un po' scomoda, sapendo che un giorno questo bambino diventerà un giovane che avrà invece le sue idee, si sarà fatto le sue convinzioni e molte di queste saranno dovute anche proprio agli esempi che in quegli anni, pur criticandoli, ha comunque visto vivere con serietà dei suoi genitori. Don Diego, ti rubo ancora un minuto. Sei un parroco, sei parroco di quattro parrocchie dell'Arcidiocesi di Torino, ma sei anche consulente ecclesiastico della Federazione Italiana Scuole Materne per il Piemonte e la Valle d'Aosta. Quindi emerge anche dai tuoi libri che sei una persona molto concreta. Un'istruzione per l'uso, per vivere al meglio questo giubileo? Beh, anzitutto lasciare a casa quello che non serve, quando ci parte. Quindi il pessimismo, lasciare a casa le brutte abitudini, lasciare a casa tutto quello che impedisce, e che potrebbe impedire a questo giubileo di fare quello per cui serve, cioè il miracolo del cuore. Poter andare a Roma, poter andare nella propria diocesi dove c'è la Porta Santa e credere che veramente il Signore può cambiare la nostra vita. Tutto quello che invece sa di un po' vecchio in noi, lasciarlo a casa perché sarebbe solo di ostacolo. Il Signore vuole sorprenderci in quest'anno giubilare, lasciamoglielo fare. Beh, non potevi lasciarci con un augurio migliore. Grazie Don Diego per essere stato con noi, vorrei anche ricordare il tuo sito internet, dondiego.me, attraverso il quale è possibile dialogare con chi ha voglia, non solo di leggere quello che Don Diego scrive, ma anche un bel dialogo con i lettori e con gli internauti. Grazie ancora per essere stato con noi e alla prossima pubblicazione, al prossimo libro Don Diego. Grazie a voi per l'attenzione e buon lavoro. Ciao, grazie. Grazie, ciao. Grazie a tutti.